Mentre una nuova scossa di terremoto di oltre 5 gradi della scala Richter ha fatto tremare di nuovo la Croazia, sisma avvertito anche a Trieste e Gorizia nella giornata dell'Epifania, si moltiplicano le raccolte di solidarietà a favore della popolazione di Petrinia. Ieri è stata la volta del circolo Acli di Via Colonia che assieme a una fitta rete di associazioni triestine e in collaborazione con la protezione civile di Monfalcone ha dato vita a una raccolta imponente di vestiario, alimentari, giocattoli e generi di prima necessità. La carovana ha fatto rotta verso la zona commerciale periferica di Capodistria dove il carico è stato consegnato alla locale sede della Croce Rossa che si occuperà poi della consegna nelle zone più colpite dal terremoto. Mentre l'associazione Acli di Via Colonia, Etero, Crevatini e Circolo e altre situazioni come Zampe di Cuore, Oti Attiviamo Noi e altre miliardi di associazioni, ci siamo recati in Slovenia presso un deposito a portare un vestiario, cose alimentari, diciamo tutte le necessità per i terremotati da Croazia che in questo momento purtroppo hanno un problema. Diciamo che dovevamo andare in Croazia, sinceramente però problema tamponi, quarantena, ci siamo fermati in Slovenia grazie anche al protezione civile di Monfalcone che ci ha accompagnato e grazie ai cittadini e una migliaia di associazioni che potete trovarle sul sito Facebook di Etero, Crevatini e Acli, ci siamo mossi per portare questi aiuti dal giornato di Anna con volontari ai nostri partner. Ringrazio tutta la cittadinanza.